Noi pensiamo che innanzitutto sia un modo per riflettere e quindi voglio anch'io porre alcuni temi per dare spunto a delle riflessioni quindi mi chiedo se sia più violento in questa nazione ad esempio costringere centinaia di imprenditori al suicidio se costringere migliaia di giovani ad emigrare, se costringere milioni di persone a essere senza lavoro a essere veramente in condizioni di povertà, se questo non sia un atto più violento rispetto all'utilizzo delle parole mi chiedo se non sia più democratico ad esempio restringere sempre di più i presidi di democrazia imporre in Italia una repubblica presidenziale così come era appunto il piano della P2 di rinascita democratica se sia appunto democratico imporre una legge elettorale per chi abbia raggiunto semplicemente il 35% dei consensi si prenda tutto il potere senza i giusti contrappesi democratici mi chiedo se non sia più demagogico cantare bella cia in Parlamento e poi magari regalare 7 miliardi e mezzo alle banche ecco questi sono temi che Beppe solleva nel suo modo non politically corretto lui non è mai stato politically corretto ma in Italia abbiamo bisogno di schiaffi per risvegliarci anche da questa informazione che tutto è meno che oggettiva e quindi questo era anche l'obiettivo di Beppe Grillo secondo voi nonostante insomma comunque le comunità ebraiche anche le parole riutilizzate di primo levi abbiano scatenato insomma questo inferno di polemiche io credo che la violenza nelle parole di Beppe non esista esiste la violenza in chi le vuole come dire strumentalizzare per altri fini Beppe ci invita a riflettere e riflettiamo sui temi che porta in quelle parole non andiamo a cercare altre argomentazioni che niente hanno a che vedere non andiamo a cercare